mi permettono il signore io sono uno sconosciuto ma me volete provare e volete provare una volta sola e volete provare e fatemi un po' vedete un po' se questa faccia mia va bene se vado bene è drammatica faccio vedere io quello che so fa sì signori alberto sordi ha deciso ha preso il primo treno in partenza e si è lanciato alla conquista della più incantevole località del mondo la costa azzurra regno del piacere abbagliante elettrizzante calamita che magnetizza gaudenti e avventurieri la costa azzurra il regno dell'azzardo dei colpi di fortuna delle donne sensazionali con le quali anche l'amore è un gioco pericoloso io la mia signora questi spettacoli non ce la posso però da solo c'è un gesto parola del siciliano no è già bellissima tocco del burro ed è in questa favolosa cornice che i nostri personaggi vivono la grande avventura 10 personaggi 10 squarci di vita intima che si fondono in un'unica vicenda divertente e patetica commovente e grottesca invilico come ogni vicenda umana tra il romanzo e la commedia adelina mi hai steso onorato ma un pc pp vince di centomila franchi così torniamo a casa come ci torno a casa con le corna ho deciso di lasciare la mia amore per me allo 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 pepe pepe le moco chi l'ha la polizia la leggenda no no merendo no no merendo che non sarebbe difficile ricominciare una vita onesta la parola che ci vuole magari con te e dovrei abbandonare tutto io viaggio ho lo yacht bellice gioielli villa paghi però giorno per giorno hai paura della macchina da presa dottor io c'ho paura di niente io mi butto bravo certo paolo è un boxeo ha il naso rotto dai pugni e io me lo faccio l'operto tutto quello che vuole dottor costa azzurra il film in cui tutte le donne sono bellissime e qualche uomo è leggermente strano bambi l'uomo più seducente di una donna 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 Grazie a tutti